Ho avuto molti ringraziamenti, però io vorrei ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno collaborato, sia nel passato, perché questa checklist degli ovini ha avuto una gestazione molto lunga e adesso poi negli ultimi due anni ha avuto un impulso con il sistema Classifarm. Vorrei ringraziare tutti, ma in particolare vado in ordine alfabetico, il dottor Fresi, il dottor Pilo e il dottor Tede che hanno collaborato e hanno anche alla riuscita di questa giornata, poi vedrete. E poi anche il personale del mio laboratorio, che devo dire, comunque ci ha consentito di lavorare serenamente e quindi di dedicarci anche a questa attività molto importante. Voglio fare due premesse di carattere generale. La prima è che noi adesso stiamo affrontando un percorso formativo in aula, però in realtà è fondamentale per applicare correttamente la checklist fare quella che noi abbiamo fatto, per esempio io ho fatto, molti hanno fatto, per la checklist degli ovini, dei bovini da latte, cioè andare in allevamento e verificare se quanto abbiamo appreso corrisponde e siamo in grado di valutare correttamente. Perché una delle caratteristiche fondamentali della checklist è non solo la ripetibilità, ma anche che sia interpretata uniformemente da tutti coloro che vanno ad applicarla. Quindi è fondamentale, e poi ci organizzeremo, tutti gli istituti sono organizzati per farla, a gruppi di sette persone, andare in due allevamenti, applicare la checklist insieme in un allevamento, la seconda, ogni discente, applicerà e poi vedremo se tutte le osservazioni che abbiamo inserito nella checklist sono corrette e conformi. Un altro particolare importante è che anche la checklist degli ovini da latte, come tutte le checklist, è supportata da un manuale che a disposizione dell'utente verrà pubblicato in Classifarm e che deve essere studiato, come dice Luigi, perfettamente, perché dà tutte le interpretazioni, i dubbi, risolve i dubbi in fase di applicazione della checklist. Poi, visto il tempo, cercherò di andare anche abbastanza veloce prima dell'intervallo, perché penso che siate anche un po' stanchini. La parte che io affronto è quella del management aziendale, cioè della conduzione aziendale. Non starò a leggere l'item, perché questo lo trovate comunque scritto, però riporto quello che dice in maniera non precisa la normativa, cioè il 146 decreto legislativo dice che gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, ma non dice il numero. Questo perché per garantire la salute e il benessere degli animali, di tutti gli animali che sono presenti, delle categorie che abbiamo visto, dobbiamo verificare il numero del rapporto che esiste tra gli addetti e il numero degli animali presenti. Poi, nell'item è inserito anche una dicitura, una definizione, mungitura eseguita da altri, perché in questo caso abbiamo la presenza di operatori che svolgono solo e unicamente le operazioni di mungitura. Come vedete, l'item è in tre livelli, vengono differenziati a seconda del numero degli animali, certamente questa è un'indicazione, non è un numero tassativo, perché è importante parlare di numero degli addetti, perché in effetti la conduzione aziendale ha effetti diretti sul benessere degli animali allevati, sia perché gli addetti preparano gli alimenti e li forniscono gli animali, poi curano, puliscono le aree di riposo, si dedicano anche a pratiche zootecniche, come ad esempio la tosatura, il pareggiamento degli unghielli, e poi comunque possono anche occuparsi di mungitura, a meno che, come abbiamo visto, non sia svolta da altri. Poi, un'altra considerazione da fare è che, nella valutazione globale, bisogna considerare il livello di meccanizzazione e automazione degli impianti che sono presenti negli allevamenti, perché, effettivamente, quando esistono dei sistemi automatizzati, probabilmente è necessario un numero inferiore di addetti agli animali. Però questa è una valutazione che deve fare, caso per caso, il veterinario che va a verificare con la checklist. Il secondo item riguarda la formazione degli addetti. Stamattina hanno enfatizzato molto, sia il direttore generale che Luigi, molte persone hanno enfatizzato il problema della formazione. In effetti, anche noi siamo qui per questo motivo, perché è fondamentale che il personale che si occupa degli animali sia debitamente formato, sia praticamente, cioè in questo caso noi valutiamo sia la pratica, cioè l'esperienza maturata in allevamento, sia anche una formazione teorica. Per esempio, un titolo di studio, un corso di formazione e in questo caso è fondamentale che almeno uno degli addetti agli animali sia debitamente formato. Come vedete, è stata ritenuta sufficiente un'esperienza maturata in allevamento per sette anni e in questo caso può essere accettabile anche se non sono presenti i corsi di formazione. Mentre se sono presenti i corsi di formazione e c'è un'esperienza maturata in allevamento maggiore di sette anni, il giudizio da assegnare è ottimale. Chiaramente noi dobbiamo in questo caso valutare quella che è la competenza, cioè che cosa l'allevatore conosce per sopperire ai bisogni dell'animale e come opta per le giuste soluzioni per migliorare e soddisfare il benessere degli animali. I corsi dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare, almeno uno ogni tre anni, e poi dovrebbero trattare di argomenti che riguardino sia la zootecnia, le condizioni sanitarie generali degli animali e anche i principali fattori di rischio che possono avere delle ripercussioni sul benessere animale, incluso delle nozioni di comportamento, etologia in senso lato, e delle esigenze etologiche degli ovini. Il terzo elemento di valutazione si riferisce alla gestione dei gruppi. All'inizio, quando il dottor Monteverdi ha fatto vedere la scheda iniziale, proprio la prima pagina della checklist, dove ci sono le categorie che noi con la checklist andiamo ad esaminare. In questo caso vi ricordo che sono gli agnelli svezzati, gli agnelli da rimonta, le pecore in asciutta, le pecore in latazione e gli arieti. Quando noi scontriamo la presenza di gestioni di gruppi conformi alle categorie che abbiamo indicato, diamo una valutazione sufficiente. Però se l'allevatore distingue anche i gruppi, per esempio in base al periodo dell'altazione, oppure se le pecore sono primipere o pluripere, possiamo assegnare anche un giudizio ottimale, perché chiaramente questi gruppi hanno delle esigenze diverse, sia fisiologiche che nutrizionali e in base anche al sesso, all'età, al momento produttivo e al momento riproduttivo. Il quarto elemento, parliamo dell'ispezione degli animali malati. In questo caso parliamo sempre di un requisito previsto dalla normativa che prescrive che tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, siano ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o costuditi in altri sistemi sono ispezionati ad intervalli sufficienti al fine di evitare le loro sofferenze. In questo caso, chiaramente, anche questa è una prescrizione che è a carattere indicativo e l'ispezione va riferita a tutti i gruppi presenti in allevamento. Non leggiamo le item, però possiamo dire che l'ispezione è al di fuori di quelle pratiche necessarie, cioè noi non dobbiamo considerare come ispezione l'alimentazione o la mungitura, ma un'ispezione, cioè una visita da parte dell'allevatore, mirata a individuare possibili pericoli per il benessere, qualsiasi anomalia sanitaria comportamentale, in modo da intervenire rapidamente per risolvere i problemi. Poi, sempre con il sistema Classifarm, è stato anche inserito il trattamento degli animali malati e feriti, perché non dimentichiamo che tutti gli animali hanno la necessità di ricevere immediatamente un trattamento appropriato e qualora l'animale non reagisca alle prime cure che possono essere anche somministrate dall'allevatore, deve essere consultato il medico veterinario e, in ogni caso, gli animali che sono malati o feriti devono essere isolati in appositi locali, muniti di lettiere asciutte e confortevoli. Però questo, per quanto riguarda l'infermeria, sarà un punto che verrà svolto dal dottor Argiolas quando parlerà di strutture e attrezzature. In questo caso, noi dobbiamo verificare se troviamo degli animali che sono feriti o ammalati, dobbiamo verificare se sono stati trattati prontamente, se è anche stato consultato un medico veterinario. Qualora noi verifichiamo entrambe le condizioni, possiamo anche assegnare un giudizio ottimale. Perché noi ci occupiamo di questo? Perché, come ho detto, è prescritto anche dalla normativa e l'allevatore deve essere in grado di rilevare precocemente segni di malattia o di malessere anche in un solo soggetto. Deve porvi immediatamente rimedio e poi, come abbiamo già detto, deve consultare il medico veterinario. Come ho detto, ma vado veloce, è sufficiente verificare l'immediato trattamento e il consulto del veterinario qualora non si sia risolto il problema sanitario dell'animale. Però, se noi dovessimo arrivare in allevamento e non trovare animali malati o feriti, consideriamo l'intervista fatta all'allevatore. Cioè, verifichiamo se l'allevatore sarà in grado, in caso ci fossero animali malati o feriti, di provvedere immediatamente a risolvere il problema. Poi è anche necessario tenere presente che alcune malattie possono insorgere anche improvvisamente con un carattere iperacuto oppure anche un ferimento improvviso e quindi anche questo potrebbe determinare il ritrovamento di animali malati non gestiti al momento del sovralluogo. Questo non è un elemento negativo, in questo senso lo vogliamo riportare. Un altro punto che è stato proprio inserito con l'applicazione del sistema Classifarm è l'abbattimento degli animali, cioè nel caso in cui gli animali siano feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato, però se non possono essere trasportati, non sia idoneo al viaggio, possono essere anche abbattuti localmente per evitare sofferenze inutili agli animali. Sono riportati gli estremi delle normative e in questo caso devono essere rispettate le metodologie che sono previste dalla normativa. Trovate tutto comunque nel manuale. L'abbattimento è l'eutanasia, dobbiamo considerare che è una pratica che provoca dolore e ansia agli animali e anche sofferenze, anche se viene eseguito nelle migliori condizioni. Quindi dobbiamo far sì che gli operatori e il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare o quantomeno ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante l'applicazione di questa procedura. Per esempio, in allevamenti di piccole dimensioni possiamo verificare questo anche solo intervistando gli operatori. Ricordiamo che i metodi di abbattimento accettati per i ruminanti e che vengono più frequentemente utilizzati sono o l'iniezione letale e in questo caso una somministrazione fatta esclusivamente dal veterinario e anche il dissanguamento o l'enervazione previo stordimento con proiettile captivo eseguito da un medico veterinario o da un personale adeguatamente formato. Quindi, personale adeguatamente formato. Questo è un altro punto, abbiamo di nuovo ribadito il concetto di formazione. Sarà necessario formare anche gli allevatori per far sì che siano in grado di far fronte a questi abbattimenti in caso di malattie o di estreme sofferenze in animali che non possono essere curati o trasportati. L'operatore deve essere munito di un certificato di idoneità alla macellazione o un operatore aziendale che abbia frequentato almeno un corso sul benessere animale di almeno otto ore nel quale sia prevista la trattazione dell'argomento specifico con nozioni teoriche e pratiche sull'abbattimento degli animali. Quindi metodologia, abbattimento, strumentazione. E anche questo è un'altra attività che noi dovremmo porre in essere per formare gli allevatori. Poi ricordiamo che la strumentazione utilizzata deve essere adeguata e sottoposta anche a regolare manutenzione perché parliamo anche di strumentazione abbastanza pericolosa e verificarne anche il corretto funzionamento durante l'ispezione. Tipologia di movimentazione. Noi perlomeno nell'allevamento ovino non è mai capitato di avere a che fare con allevatori che usassero degli strumenti offensivi come pungoli elettrici o strumenti appuntiti. Però non dobbiamo escluderlo e quindi noi dobbiamo verificare che l'allevatore nel momento in cui sposta gli animali usi dei sistemi che non siano lesivi agli stessi animali. E in genere, diciamo, nell'allevamento ovino o viene utilizzato vocalmente oppure si battono le mani ma necessariamente non vengono mai utilizzati strumenti che siano lesivi. Passiamo poi alla somministrazione, all'alimentazione e all'abbeveraggio che è molto importante nella gestione degli alimenti e della razione giornaliera. Qui abbiamo le due situazioni, come vedete, sia la situazione in stalla sia la situazione al pascolo. Non leggiamo l'item perché comunque lo troverete diciamo solo che è molto importante che la razione venga eseguita il calcolo venga eseguita da un esperto tecnico alimentarista o da un veterinario che sia in grado di valutare i bisogni nutritivi dell'animale e anche la capacità, quindi la quantità, di ingestione da parte dell'ovino riportato alle differenze fasi fisiologiche nonché valuti anche i tempi di pascolamento e delle varie tipologie di essenze erbace per evitare appunto l'insorgenza di malattie legate all'errata alimentazione o errata anche gestione di pascoli. vi riferisco per esempio alle gastroenterotosiemie e chiaramente quando il pascolo non è sufficiente a soddisfare i bisogni nutrizionali degli animali deve essere prevista un'integrazione della razione con altri alimenti, mangimi e foraggi questo viene normalmente praticato. Poi nella gestione è importante anche controllare la tracciabilità degli ingredienti che comporgono gli alimenti lo stoccaggio perché abbiamo visto che proprio parlando di biosicurezza gli alimenti devono essere custoditi in ambienti puliti e asciutti per evitare l'insorgenza di muffe e altre caratteristiche che alterino le proprietà organolettiche e nutrizionali con anche sviluppo di sostanze tossiche per la salute degli animali e poi è importante che l'alimento sia adeguato alle esigenze nutrizionali dell'animale in funzione sia di fabbisogni energetici di mantenimento che di produzione per esempio in crescita, in caso di aumento ponderale, in caso di gestazione, latazione e anche asciutta che è una fase molto importante per l'alimentazione degli animali per evitare poi problemi nella successiva latazione se ci troviamo di fronte a un allevamento che pratica l'allattamento artificiale negli agnelli con agnelli che vengono praticamente allontanati dalla madre dopo l'assunzione del colostro è necessario prestare molta attenzione nella cura del latte nella ricostituzione del latte e nella somministrazione e anche nella manutenzione delle tettarelle nella pulizia delle tettarelle che vengono utilizzate poi dagli animali anche in questo item parliamo di alimentazione parliamo di tipologia di alimentazione di come dovrebbe essere somministrata l'alimentazione in quanto tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche in realtà l'ottimale sarebbe che l'alimentazione possa essere somministrata ad elibitum per consentire agli animali di alimentarsi nell'arco di tutte le 24 ore però se abbiamo una somministrazione disgiunta per esempio degli alimenti fibrosi come il fieno e l'erba da quelli concentrati bisogna garantire che la parte fibrosa dell'alimento sia data nell'arco delle 24 ore disponibile mentre la parte di concentrati deve essere somministrata in almeno due occasioni e questo appunto è un item che prevede due sole opzioni cioè quando non è adeguata la tipologia di alimentazione perché non ci sono intervalli corretti e perché non viene garantita nelle 24 ore è frazionata l'assunzione di alimento mentre è adeguato quando gli intervalli sono corretti e perché nelle 24 ore è garantita è sempre disponibile la somministrazione per esempio di fieno oppure in caso Unifid oppure Pascolo o Prato e viene anche praticato correttamente il frazionamento dei concentrati in almeno due volte al giorno qui vediamo un esempio per esempio è la dimostrazione di come un allevamento in questo caso Unifid le pecore hanno a disposizione l'alimento anche in questo caso vi riporto una condizione ottimale in cui gli animali hanno a disposizione l'alimento per tutte le 24 ore un altro elemento importante è la gestione degli agnelli fino allo svezzamento e in questo caso si valuta dalla nascita fino al giorno dello svezzamento abbiamo tre livelli di valutazione l'animale è agnello allontanato dalla madre allattato artificialmente con latte ricostituito però in questo caso parliamo di temperatura non idonea oppure di numero tettarelli insufficienti in caso di allattatrice in funzione per 24 ore o la presenza di una tettarella parliamo ogni 25 agnelli invece nella situazione accettabile ma migliorabile abbiamo che il latte viene fornito l'agnello viene allontanato dalla mamma dalla madre il latte viene fornito a temperatura controllata e tutti gli agnelli hanno accesso alla tettarella qualora abbiamo una tettarella ogni 25 animali nelle 24 ore oppure ogni tettarella per ogni animale presente la condizione ottimale che è quella poi più diffusa è che gli animali siano mantenuti con la madre fino allo svezzamento è chiaro che nella valutazione è importante considerare l'assunzione del colostro in adeguate quantità e anche entro le prime ore di vita si parla delle prime 3-4 ore di vita secondo ci sono un po' di variabilità l'allontanamento dell'agnello viene fatto, viene eseguito dopo l'assunzione deve essere eseguito dopo l'assunzione del colostro e in caso di svezzamento precoce per esempio dobbiamo stare attenti perché se avviene sotto i 30 giorni di età dell'agnello potrebbe essere un motivo di stress che si ripercuote negativamente su entrambi sia a livello fisiologico che comportamentale però io credo che tutti siamo a conoscenza che già di per sé lo svezzamento è una procedura stressante sia per l'animale che per l'agnello e quindi dobbiamo fare attenzione che vengono rispettati i tempi e che qualora l'agnello sia lattato non avvenga prima di 30 giorni di età poi un'altra considerazione riguarda la preparazione del latte in polvere che deve essere sciolta a una determinata temperatura in modo che si sciolgano i grassi presenti e che vengano somministrate anche a una temperatura di 37 gradi per evitare problemi gastrointestinali all'agnello un altro elemento di valutazione è la disponibilità di acqua e qui richiamiamo la normativa perché tutti gli animali devono avere accesso a un'appropriata quantità di acqua di qualità adeguata e devono poter soddisfare parliamo di una delle cinque libertà in grado di soddisfare l'esigenza di assorbimento di liquidi e in altri modi e le trezzature per la somministrazione di mangime di acqua devono essere concepite costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra animali questo è quanto viene riportato dalla normativa e come nota vediamo che basta riscontrare la presenza anche di un singolo soggetto in condizioni tali da non poter soddisfare i requisiti elencati per assegnare un giudizio insufficiente qui abbiamo la differenziazione sia nelle tre livelli di giudizio cioè insufficiente, adeguato, migliorabile e ottimale sia anche nelle condizioni presenti in stalla e al pascolo come vedete il requisito superiore prevede che oltre ai livelli dell'adeguatezza cioè la presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi con somministrazione di acqua pulita è il numero sufficiente oppure la somministrazione di un'adeguata quantità di latte agli agnelli non ancora svezzati se parliamo di pascolo la presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibilità per tutti i gruppi o e o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali il requisito superiore oltre a questi elencati prevede la presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi comprese anche negli animali non svezzati perché anche gli agnelli che sono in allattamento a volte anzi molto spesso necessitano di abbeverarsi quindi possiamo dire che l'acqua è un elemento che deve essere sempre a disposizione di tutti gli animali quindi tutte le categorie che non andiamo ad esaminare deve essere pulita deve essere distribuita in abbeveratoi numericamente adeguati alla consistenza del greggio e distribuita razionalmente nell'area dove gli animali pascolano soprattutto ricordiamo nel periodo estivo deve essere l'animale può arrivare all'acqua non è necessario che sia presente ma che l'animale ci arrivi facilmente e deve essere anche accessibile agli agnelli in questo caso abbiamo anche a disposizione degli abbeveratoi regolabili in altezza o tale da consentire a tutti gli animali di abbeverarsi come abbiamo detto quindi questa non l'abbiamo tolta ma è doppia vi portiamo alcuni esempi di acqua in questo caso noi possiamo assegnare un giudizio adeguato perché l'acqua è abbastanza pulita in superficie scusate è abbastanza pulita e vedete un esempio di un abbeveratoio che viene installato in questo caso un abbeveratoio fisso però a volte ci sono anche dei sistemi diciamo che possono essere spostati a seconda dei luoghi dove pascono gli animali però è un importante elemento da considerare per il benessere degli animali l'acqua la pulizia anche questo vi ho fatto vedere un abbeveratoio abbastanza adeguato però l'acqua non limpida la sporcizia è un elemento negativo e se c'è poco alimento comunque in superficie che galleggia il giudizio intermedio perché sappiamo benissimo che quando l'animale dopo che ha mangiato va a bere può lasciare di residui di cibo l'importante è che le pareti dell'abbeveratoio siano pulite e l'acqua sia comunque limpida non sia torbida quando non abbiamo presenza di sporco e abbeveratoio pulito e acqua limpida possiamo assegnare un giudizio ottimale in questo caso vediamo un abbeveratoio che possiamo considerare ottimale l'acqua è ottimale nel senso che è limpida dobbiamo valutare la qualità dell'acqua in tutte le categorie sempre quelle che ricordiamo che sono presenti all'inizio e poi l'allevatore dovrebbe eseguire regolarmente la pulizia e il controllo degli abbeveratoi soprattutto quelli automatici ma tutti perché dovrebbe eliminare la sporcizia che può essere causa di proliferazioni batteriche e anche causare disordini metabolici sia anche controllare che il deflusso dell'acqua scorra per riparare eventuali ostruzioni o interruzioni del flusso dell'acqua qualora siano in continuo ecco come vedete in questo caso abbiamo due esempi di abbeveratoio che può essere considerato come vi dicevo in una valutazione intermedia nel senso che l'acqua comunque non è torbida anche se nella fotografia non vi assicuro è abbastanza pulito l'abbeveratoio in questo caso abbiamo il classico esempio di un abbeveratoio sporchissimo l'acqua imbevibile questo è un altro abbeveratoio dello stesso allevamento che come vedete oltre si intravede che anche le pareti sono abbastanza hanno dei depositi stesso allevamento bella l'idea di mettere a disposizione però come vedete i due contenitori sono estremamente sporchi non consideriamo l'acqua in superficie le pagliuzze come vi ho detto ma vedete che le pareti sono molto sporche parliamo di igiene e pulizia delle lettiere che i materiali come sempre la normativa riferisce che i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati in questo caso noi dobbiamo prendere in considerazione l'igiene la pulizia e la gestione degli ambienti dove gli animali sono presenti le pavimentazioni e l'igiene della lettiera e anche consideriamo la frequenza degli interventi di ripristino o di ricambio del materiale da parte dell'allevatore un giudizio negativo è quando ci troviamo di fronte ai locali e lettiera sporchi non gestiti addirittura dannosi per gli animali mentre il giudizio intermedio adeguato quando ci troviamo di fronte a una lettiera o locali di stabilazione abbastanza puliti e gestiti in maniera sufficiente in quasi tutti i gruppi il giudizio ottimale quando invece abbiamo gli ambienti di stabilazione e anche la lettiera puliti asciutti e gestiti in modo ottimale da parte dell'allevatore la valutazione come vi ho detto deve essere eseguita in tutte le categorie in tutti i gruppi e considerando tutti gli ambienti dove sono presenti gli animali valutando anche le zone di riposo i pavimenti i passaggi e anche i paddock esterni di accesso vediamo due esempi di lettiera a sinistra diciamo giudizio abbastanza negativo potrebbe essere accettabile nella fotografia di destra in questo caso ricordiamo appunto che il ricambio della lettiera dovrebbe avvenire di norma ogni 2-3 mesi e aggiunta rabboccata come si suol dire ogni 2-3 giorni però queste sono considerazioni che vengono lasciate al veterinario valutatore perché sono in funzione a parte del numero degli animali anche del momento produttivo riproduttivo degli animali e anche in considerazione della stagione perché effettivamente andando a applicare la lista in una giornata di pioggia è più facile avere a che fare con una lettiera che magari non si presenta perfettamente pulita in questo caso vedete una lettiera che è al limite tra l'accettabile e il non accettabile però il giudizio di valutazione è lasciata al veterinario in questo caso invece vedete una lettiera che non mi sento di considerare accettabile perché sono presenti più feci che non presenza di paglia e quindi in questo caso il giudizio è insufficiente ovviamente vi ricordo che dobbiamo esaminare tutti i locali dove sono presenti gli animali e due altre due fotografie ai quali possiamo assegnare un giudizio ottimale perché la lettiera è decisamente pulita in questo caso proprio ottimale sicuramente lettiera molto pulita e ben trattata igiene dei locali e delle attraziature di mongitura anche in questo caso è riportato dalla normativa che tutti i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione tra l'ascio ma soprattutto con le attrezzature che vengono a contatto con gli animali non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere pulite e anche possibilmente disinfettabili si valuta l'igiene generale dei locali e delle attrezzature di mongitura compresa la sala di mongitura la sala di attesa qualora fosse presente e le mangiatoie però non lasciandosi influenzare dal livello tecnologico dei locali vediamo che la presenza nel giudizio intermedio è tollerata la presenza di residui fecali sui pavimenti e muri però pulizia adeguata di gruppi di mongitura mentre per assegnare un giudizio ottimale dobbiamo verificare l'assenza di residui fecali e una buona igiene generale allora chiaramente dobbiamo valutare che nei locali vengano rimossi quotidianamente le feci che vengono lasciate che vengono ritrovate accanto alle parti meccaniche del gruppo di mongitura che vengono rimosse dai pavimenti e anche dalle pareti delle sale la pulizia delle mangiatoie per verificare che non ci siano residui di cibo stantio che può essere in generale anche occasione di presenza di altri animali tipo i roditori dobbiamo verificare la pulizia delle sale di attesa come vi ho detto della zona antistante la sala mongitura e anche dei corridoi e delle rampe di accesso dalla mongitura e valutare anche la presenza di ripari che proteggano gli animali dall'intemperie durante la fase di attesa della mongitura perché sarebbe in buona norma questa è una situazione ottimale di una sala di mongitura dove vedete non solo un'estrema pulizia ma poi lo vedrete non mi dilungo un'unica precisazione che pur non essendo diciamo coperta la sala pre-mongitura in realtà la mongitura è stata costruita in modo tale che le pecore che sostano in attesa di essere munte sono riparate dai venti dominanti che sono di nord-ovest e quindi vengono riparate dai venti che potrebbero causare anche delle patologie agli animali abbiamo un altro esempio di una sala qui in questo caso come vedete questa vediamo se riesco no va bene la fotografia in basso a destra è una sala pre-mongitura molto pulita come vedete quindi anche questa è una sala non molto diciamo ampia però tenuta perfettamente come è tenuta perfettamente anche la zona post-mongitura poi un altro elemento da valutare è la gestione delle operazioni di mongitura e di igiene della mammella noi riteniamo accettabile che venga utilizzato il pre-post-dipping in modo non continuativo anche solo per esempio in caso di problemi delle mastitte mentre il giudizio ottimale quando il pre-post-dipping vengono svolti in maniera rutinaria con anche attrezzatura pulita chiaramente la gestione delle operazioni di mongitura è molto importante ed è una condizione necessaria per mantenere la sanità della mammella e quindi di conseguenza lo stato di benessere degli animali sarebbe buona norma lavare con acqua tiepida asciugare con carta monouso per evitare contaminazioni batteriche sia in caso di mongitura manuale che meccanica e le operazioni di pre-dipping per le particolari conformazioni anatomiche della mammella della pecora non sono necessarie se la mammella si presenta in buone condizioni igieniche appunto se viene lavata mentre è opportuno eseguirla dopo le operazioni di mongitura io ho finito e adesso dovremmo proiettare rapidamente il primo film di mongitura